Fanno un numero meraviglioso. Ma dov'è Marcella? Marcella! Marcella è il mio primo film, è il mio esordio alla regia. Quindi fino ad adesso sono sempre stata un'attrice. E l'attrice al cinema è il corpo esposto per antonomasia, è il corpo che viene guardato. Viene guardato da un regista che lo sovrascrive, viene guardato dagli spettatori. Ma dopo tanti anni che sono stata guardata mi piaceva l'idea di provare a cambiare questo sguardo. E penso di aver fatto un primo film molto personale. Perché nella storia questa bambina è profondamente gelosa del rapporto simbiotico tra la madre e il cane. Questo cane è compagno di arte, compagno di vita. E chiaramente nel film è una proiezione di un paterno, di un padre. È un film che trasfigura la mia storia, ma in effetti è la mia storia. Quindi come primo film ho provato a raccontare quello che conoscevo meglio come relazione. Che è la relazione fondante della mia vita, madre e figlia. Una relazione che poi io ho ribaltato perché sono diventata madre di una bambina. È un film complesso, ma è sicuramente la cosa che più mi rappresenta. Perché mi piaceva raccontare una storia dal punto di vista della memoria di una bambina. E quindi come la memoria trasfigura tutto. Volevo darti questo. Uh! Mi diamo così bene? Senti, ti va domani di venire all'8.10 verso le 3? Siccome sono un po' di anni che faccio l'attrice, ti posso raccontare che in Italia non è così facile divertirsi. Se sei una donna a fare il cinema. E di Alba mi ha sempre colpito molto la sua pazzia. La sua forma di espressione quasi claunesca. Io dico sempre che lei è come Buster Keaton. E quindi volevo fare con lei un momento di scambio, di possibilità e di gioco. E poi mi piace dirigere gli attori. Tantissimo. Perché un po' so che cosa dirgli. E un po' mi fa dolcezza vedere la fragilità e la potenza insieme di queste creature. Mi piace raccontare una madre crudele. Mi piace raccontare una figlia crudele. Cioè personaggi non idealizzati, anche se appunto non c'è realismo, ma è raccontare che l'umano può essere tutto. E che i ruoli madre e figlia sono dei ruoli, ma si possono sempre ribaltare. L'arte è per voi. In questo film, dove appunto l'inno principale, il motto principale è all'arte si deve la vita, credo che sia il messaggio profondo che la mia mamma mi ha lasciato come una vera eredità. Non c'era niente di eredità materiale nella nostra vita, perché non avevamo nulla, se non un grande senso di dignità e di volontà di ampliare il proprio orizzonte, nonostante i mezzi materiali che la vita ci aveva dato. Ricorda che all'arte si deve la vita.